Con Anthony Aliano, ex assessore del Comune di Montesilvano, oggi amministratore della Monterosi, per commentare questo punto conquistato contro il Pescara. Contenti? Quanto? Buon pomeriggio. Diciamo che per me è una partita speciale, evidentemente. Sono un abruzzese residente a Pescara, quindi un punto importante per noi contro una squadra forte, una squadra che in ogni caso sta facendo un campionato da protagonista. Dunque noi siamo soddisfatti. La partita, diciamo che il Pescara vi ha messo un po' in difficoltà con tre occasioni da rete e poi dopo l'espulsione di Brosco potevate anche provare a vincere? Beh, alla fine il portiere del Pescara ha fatto una grande parata, ha salvato il risultato, recriminiamo un po' quell'azione, potevamo sì, forse vincere alla fine, ma tutto sommato poi per com'è andata la dinamica della partita nei 90 minuti, il pareggio può essere un risultato soddisfacente per entrambi. Un abruzzese non solo, uno in tanti siete qui a Monterosi? Eh sì, io devo dire che ho trovato in squadra tanti abruzzesi, stiamo portando avanti il nome dell'Abruzzo in maniera orgogliosa e fiera. Vi aspettavate questo Pescara? Un bel Pescara, una bella squadra, devo dire, ho visto anche le altre, anche la prima, la seconda in classifica, che qui è venuta a pareggiare il Crotone. Quindi Pescara è una squadra interessante, una squadra di grande valore. Grazie. Grazie.